Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi, rose, camelie, tulipani e ficus e lantane. Ognuno di noi ha una pianta, un fiore del cuore e oggi ne parleremo in una puntata che abbiamo voluto colorare di verde, però sempre alla maniera del nostro programma, con uno sguardo rivolto al noi, al sociale e scopriremo infatti che ci sono tantissimi collegamenti in essi tra la natura e il bene comune e allora io sono felice di ritrovare qui a Siamo Noi, in una veste un po' insolida e va detto inedita, una collega che è un volto amatissima, autorevole del servizio pubblico, bentornata Giuseppina Paderniti. Bentrovata, bentrovati tutti. Allora Giuseppina, tra poco arrivo da te perché ti voglio portare, voglio portare il nostro pubblico in un luogo meraviglioso, è un luogo di preghiera, di devozione ma anche come vedremo di fioritura e lì ci aspetta la nostra Antonella Ferrara che ci dice subito dov'è esattamente. Ciao Antonella. Buon pomeriggio Gabriella, per la fioritura ci vuole un po' però sono all'interno della Repubblica di San Marino nel santuario Cuore Immacolato di Maria e qui all'interno del santuario c'è un roseto che vedete un po' inizia a fiorire e insieme a me c'è una persona che ci può raccontare perché questo roseto è particolare, è diverso dagli altri ovvero fra Ignazio che si prende cura insieme agli altri frati del roseto. Fra Ignazio, innanzitutto perché è particolare? Questo è un roseto che si fruisce, che si attraversa, non si guarda soltanto. Bene, Signore Vidiapace, benvenuti. Vi ospitiamo nel nostro roseto che è un roseto che è anche un rosario, quindi entrandoci si fa un'esperienza anche di preghiera. Anticamente i frati nel Trecento inventano questa preghiera a seguito di un novizio che era entrato che aveva saputo che la Vergine Maria era morta a 72 anni e quindi lui raccoglieva ogni giorno 72 rose da portare alla Vergine Maria. Il guardiano si accorge che forse ci mette un po' troppo tempo per fare questo e glielo vieta e lui va un po' in crisi dicendo che aveva fatto questo voto alla Vergine Maria. Allora ha una locuzione interiore e lui sente che deve trasformare, anziché raccogliere dei fiori, queste in Ave Maria e ogni giorno ne dice 72. Ecco, queste 72 Ave Maria vengono legate ai sette misteri, le sette gioie che Maria ebbe in terra. E noi abbiamo pensato questo roseto esattamente così, per realizzare il desiderio di questo novizio del Trecento. L'abbiamo pensato durante la pandemia, quindi meno di quattro anni fa. e c'è questo percorso sensoriale che è legato a colori e profumi per ogni mistero che viene celebrato, che viene contemplato. Quindi ci sono le rose, ci sono i misteri, si attraversa. E questo roseto, mi dicevi tu, è particolare anche perché l'esperienza sensoriale è particolare. Perché? In che senso? Ad ogni mistero ci sono legati dei profumi e appunto dei colori. Il primo mistero, per esempio, che è l'annunciazione, c'è tutto il colore bianco e ci sono almeno dieci varietà di bianco. Poi arriva il giallo, col secondo mistero, poi il mandarino, poi il rosa, fino ad arrivare al rosso cremisi, alla settima gioia della Vergine Maria. Davanti alla Madonna. E questa è soltanto una parte, caro Gabriele, una storia bellissima intorno a questo roseto, ma tra poco vi racconteremo qualcos'altro che riguarda la natura e il prendersi cura delle piante. A tra poco. E nel frattempo Antonella è cresciuto in tutti noi il desiderio di visitarlo, questo roseto, di farla, questa esperienza sensoriale. Giuseppina, Papa Francesco ci ricorda sempre quanto è importante prenderci cura della casa comune, anche perché Dio è nella natura. E poi ci sono le parole del Giusuita Dosantos che ci ricorda che la cura del creato ci rende fratelli. Secondo te perché? In che senso ci rende fratelli? Perché solo osservando bene il creato, ma rispettandone anche i ritmi, quel ritmo di crescita lente, rispettando il ritmo delle stagioni, impari a capire che sei in quel ritmo e tutto quello che è al di fuori viola profondamente questo legame che ci tiene stretti insomma al pianeta. Credo che sia molto importante questo e è anche molto importante che anche i bambini insieme ad educati a questo. Vedevo io ho un nipotino piccolo che è figlio di un mio fratello che già all'asilo, un asilo comunale, ha cominciato a piantare gli ortaggi, le verdure, sa quindi qual è il ritmo delle stagioni, la cura che bisogna mettere per fare crescere queste piante, le conosce una per una. e credo che questo sia davvero un'esperienza importante perché diciamo in qualche modo capovolge l'ottica che abbiamo avuto per tutto il periodo industriale. Noi viviamo rimossi dalla natura e anche da noi stessi in qualche modo. A proposito di questo, poi mi dovrai, ci dovrai dire come hai fatto e come fai a occuparti delle piante, ma lo facciamo dopo questo discorso, visto che hai diretto il TG3, sei stata corrispondente da Bruxelles, l'offerta formativa della RA, insomma il tempo, ma come hai fatto? proprio, ma adesso io voglio partire dall'inizio, come nasce la tua passione, perché per questo oggi ti abbiamo chiesto di essere qui, per le piante e per i fiori, ha qualcosa a che vedere con le tue origini, con quella terra dove fioriscono i limoni? Ma sì, probabilmente sì, diciamo a casa eravamo tutti appassionati, sì sono siciliana, a casa eravamo tutti appassionati, quindi tra il giardino e il terrazzo e poi le piante interne, che c'erano all'interno, insomma c'era sempre da preparare sistemare. Quindi anche a te piccolina ti hanno insegnato a riconoscere le varietà delle piante? Sì, 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 assolutamente, diciamo, dagli zii alla famiglia, tutti insomma erano, diciamo, molto, come dire, c'era molta cura da parte di mio padre, di mia madre, ognuno aveva il suo compito, però devo dire che comunque, sai, nel corso degli anni credo che in qualche modo mi abbia tenuta radicata alla terra, no? Tu ricordavi i primi grandi impegni che ho avuto, no? E certe volte sì, soprattutto nella stagione in cui era richiesta molta cosa, mi svegliavo quelle due, tre ore prima per fare proprio, diciamo, il mio dovere quotidiano di accudire le piante del terrazzo. È bellissimo quello che ci dici, perché ci fai anche intuire che al di là degli incarichi importanti di tutto questo ti ha aiutato, curando la terra, a tenere anche i piedi ben piantati per terra. Ma poi torniamo su questo, perché noi oggi ci siamo posti anche una domanda, ci siamo chiesti se prenderci cura delle piante può essere anche una cura che rivolgiamo a noi stessi, qualcosa che diventa parte delle terapie che magari dobbiamo affrontare e anche, quando possibile, del processo di guarigione. E credo che gli ospiti, che sono in questo momento accanto a Marta Manzo, che ci dirà dov'è, possono darci qualche risposta. Marta, ben arrivata. Sì, Gabriella, buon pomeriggio. Sì, ci possono dare qualche risposta, perché qui siamo nel giardino pensile terapeutico per pazienti oncologiche del Policlinico Gemelli-IRX, che dal 2018 consente a queste donne di venire fuori in terrazza e godere appunto della possibilità di stare in mezzo alla natura, pur essendo in città. Con me a raccontare questo prodotto, questo percorso, c'è Claudia Marchetti, che è dirigente medico dell'Unità Operativa Complessa Ginecologia Oncologica e docente di ginecologia ostetricia all'Università Cattolica. Dottoressa Marchetti, è vero che stare in mezzo alla tutora, è vero che stare con le piante aiuta le persone in terapia? Noi ci crediamo, perché c'è una buona parte della letteratura che negli ultimi anni, questo l'ha confermato, in generale nelle cure e in particolare nelle cure oncologiche, perché comunque si tratta di pazienti che hanno una vicenda difficile da affrontare, questo attenua l'ansia, rende più compliance a questa situazione, quindi sì, assolutamente sì. E allora, decimo piano, ala O del Policlinico Gemelli IRCS, vi aspettiamo qui per raccontarvi come si snoda questo percorso e soprattutto chi ha accesso. A te Gabriella. Grazie, noi lì torneremo e io faccio sosta dal nostro Simone, Simone Lombardo. Intanto Gabriella, perché è arrivato il momento di coinvolgere chi ci segue da casa, vorrei capire se i nostri telespettatori hanno il pollice verde, ecco, per quel che mi riguarda io sono assolutamente negato. Però, ecco, oggi raccontateci anche il vostro rapporto con la natura, non so, magari le piante, la cura delle piante vi ha aiutato in un particolare momento della vostra vita. Insomma, raccontatevi, siamo noi e perché no, mandateci le foto su WhatsApp. Il nostro numero si è attivato 348 3070 345. Attivi ci sono tutti i nostri social e la mail di redazione. Vi aspettiamo. Grazie, grazie Simone. Allora, abbiamo a questo punto necessità di acquisire anche un altro sguardo, se vogliamo anche un'altra competenza. E quindi è il momento di dare il benvenuto a Pietro Bruni, laureato in scienze naturali, giardiniere, progettista, cofondatore di Hugh Gardner, Tu Giardiniere, che è una piattaforma molto visitata dagli appassionati di piante e di giardinaggio, dove si possono anche attingere dei suggerimenti. Bruni, benvenuto. Buon pomeriggio a tutti. Buongiorno, grazie. Allora, Bruni, giusto una battuta prima di andare in pubblicità, ma poi tanto abbiamo il nostro tempo. Perché Simone ha detto io sono negato? Io sono, vorrei ma ancora non posso, arranco. Allora, mi deve dire, se è un destino segnato, se ci si nasce con il pollice verde o questo pollice si può eventualmente sviluppare? Perché mi incuriosisce il titolo del suo libro che è uscito per Mondadori, Il pollice verde non esiste, poi c'è il sottotitolo che la dice lunga, curare le piante per coltivare se stessi. Allora, ci offra, se possibile, qualche speranza, altrimenti, insomma, le mettiamo da parte. Siamo anche pronti a questo. Allora, no, assolutamente, il pollice verde non è una dota innata, possono acquisirlo assolutamente tutti e da qui è il titolo del mio libro, nel senso che il pollice verde si può acquisire partendo da due semplicissime regole, che è la una, scegliere le piante giuste e la seconda, non trattare le piante come cose, ma sapere che hanno delle esigenze come giustamente, come qualsiasi essere vivente. E già abbiamo avuto due fondamentali indicazioni che un po' ci possono guidare, noi andiamo brevemente in pubblicità, poi torneremo anche al Santuario Mariano di San Marino e torneremo anche al Gemelli, naturalmente alle riflessioni con gli ospiti in studio collegati. Grazie a tutti. Sì Gabriella, decimo piano, lo dicevamo, ha la O in un percorso proprio pensato per le pazienti oncologiche, un percorso in realtà fruibile anche dai familiari e dal personale medico. Lo raccontiamo appunto con la dottoressa Claudia Marchetti. Dottoressa, questo percorso comincia all'interno e poi viene fuori. Come funziona? Allora, le pazienti che fanno qua trattamento entrano e già trovano da dentro dei giardini alle pareti, verticali noi le chiamiamo, che già accolgono nella natura sin da dentro e da dentro possono ammirare fuori. Poi arrivano qui fuori e c'è tutta una serie di piante scelte in maniera puntuale, non improvvisata perché c'è un criterio. Possono stare qua, ci sono delle sedute per loro e per i familiari ovviamente. E poi la parte che noi abbiamo più a cuore, le sedute che sono posteriormente a noi in fondo, dove possono fare infusione di chiameterapia in un clima quanto più naturale possibile. Sono infatti delle sedie proprio appositamente collocate in aree prestabilite, protette, dove le piante sono scelte ancora con più cura? Assolutamente sì, perché dobbiamo evitare vicino alle pazienti piante che possono emanare odori, sostanzialmente per risparmiare alla paziente un fastidio che in parte sarebbe indotto dalla terapia, penso alla nausea ad esempio, che purtroppo si accompagna ai nostri trattamenti e poi invece più verso questo lato abbiamo invece piante più comuni come ad esempio agrumi e simi che sempre fanno parte di quello che va ricostruito a livello naturale per avere una situazione confortevole. Oltre a questo ci sono anche dei percorsi, sono percorsi proprio quasi tattili, c'è un motivo anche per questo, che tipo di percorsi sono e perché funzionano così? È cruciale per noi, io personalmente ci tengo molto perché le nostre pazienti fanno alcuni trattamenti che le spongono al rischio di problemi neurologici diciamo, quindi anche a livello degli arti inferiori e in questi percorsi che possono fare c'è un recupero di questa neuropatia molto naturale che ricorda un po' una spa per essere un po' più semplici e che invece aiuta molto a recuperare questo fastidio che potrebbe invece essere limitante nel corso di una chemia. Per chi ci sta guardando da casa sono percorsi con sassi, si può camminare su dei piccoli tronchi. Come si arriva qui lo chiedo a Serena Sarnino che è la coordinatrice del Loto Care Center qui nell'ospedale, nel Policlinico Gemelli, IRCS, Serena, arrivano persone, passano da voi e gli consigliate di venire qui? Sì, non solo consigliamo ma le accompagniamo, veniamo con loro e a volte i loro parenti qui al giardino e per loro si apre un mondo, un mondo veramente parallelo. Che feedback danno infatti le pazienti che vengono qui? Sì, la prima impressione della maggior parte di loro è che si illuminano, hanno questi occhi che brillano e le accompagniamo qui, le facciamo vedere il giardino e poi iniziano la loro terapia. Terapie spesso molto lunghe accompagnate da momenti di coccole dove i nostri volontari arrivano con delle tisane calde e quindi portano anche questo momento di calore, spesso c'è anche la lana terapia, fanno lavori a maglia ad esempio per ingannare un po' questo tempo d'attesa. Tutto questo in mezzo alla natura. Io ringrazio le mie ospiti Serena Sarnino, la dottoressa Claudia Marchetti, Gabriella Adal, Policlinico Gemelli, ti restituisco la linea. Grazie Marta, noi ringraziamo le tue ospiti perché tutto quello che ci avete raccontato ci piace moltissimo e Giuseppina sappiamo che la medicina con tutti i suoi strumenti non sempre può guarire, sempre deve curare, però abbiamo imparato anche a riconoscere, anche grazie alla ricerca scientifica, che nei processi di guarigione conta moltissimo il nostro atteggiamento mentale e quindi il discorso della cura per le piante, un discorso che abbiamo appena sentito ha un gran senso. E si guarda, è estremamente importante, leggevo alcuni anni fa che molti manager per questi stressatissimi nel mondo diciamo fanno ogni giorno quelle due o tre ore anche di coltivazione delle piante, di cura delle piante, diventa quindi un elemento un po' per stemperare, un momento per stemperare insomma lo stress della giornata, però a prescindere da questo vorrei anche dire un'altra cosa, credo che curare una pianta significa in qualche modo sentirsi parte del creato, capire quando ha bisogno di cura, quando viene attaccata dagli afidi, cioè proteggerla, una forma di protezione che ci rende anche più responsabili verso una realtà che per chi vive in città è quasi estranea, mentre invece è estremamente importante ricreare proprio anche sul piccolo balcone, in terasse eccetera, secondo me questo contatto diretto con la natura che ci fa capire che alla fine noi siamo lì, profondamente radicati, non siamo altro, non siamo i dominatori, ne facciamo parte. Ci dà molto da riflettere quello che stai dicendo e c'era una volta e c'è ancora a questo riguardo proprio, una casa di quartiere molto accogliente dotata di un giardino bellissimo con Marta Manzo, ci andiamo. Questa è anche giù, è testa, questa qui, sì, bella anche. La pianta, le vigne, le piante. Mi piace la natura, perché la natura è bella, è bella. Mi piace seminare, metti di fiori. Questa esperienza di giardinaggio è inserita nel progetto della casa di quartiere, che si si chiama il giardino di Jonathan, che è una casa di quartiere per over 65 autosufficienti. Alcuni hanno altre problematiche che afferiscono anche a delle difficoltà, vuoi relazionali, vuoi linguistiche, oppure hanno delle disabilità accertate. È un po' presto per dare pieno vigore a questa esperienza, ma i nostri amici possono cominciare a fare le prime cose, piantare i bulbi, ad esempio, potare gli olivi, sistemare un po', raccogliere le fogliacce. Si prendono con piacere cura della natura. È una delle prime volte, però a me è sempre piaciuto stare in campagna e fare queste cose. perché è bella che la natura, i fiore, le cose, si sta bene. L'esperienza del giardinaggio è un'esperienza davvero speciale per noi soci e per gli ospiti, perché in questa situazione noi abbiamo la possibilità di vederli all'opera in libertà in mezzo alla natura, in mezzo ai fiori, in mezzo ad esperienze che loro considerano molto belle e ciò ci gratifica immensamente, anche per affrontare le problematiche che a volte abbiamo e quindi ci dà energia positiva. Praticamente entriamo tutti in sintonia tra noi e con la natura. Mi piace stare in giardino, al sole. Passa sempre. È una cosa bellissima. È una mia rinascita. E ormai lo sapete che noi raccontandovi esperienze come queste ci auguriamo che vengano replicate e che si diffondano sul territorio il più possibile. Bruni, ma se prendendo spunto da tutto quello che stiamo scoprendo e dicendo, qualcuno di noi proprio adesso volesse iniziare a dotare la propria casa di un angolo verde, ci dice magari da quale pianta, per semplificare un po' la cosa, si potrebbe partire e con quali piccoli necessari passi? Allora, secondo me una cosa molto carina è dotarsi, e basta anche un avanzale ampio, di piante aromatiche da usare in cucina, perché alla fine per quelle basta veramente una foglia per insaporire un piatto di un'intera famiglia. Quindi secondo me le aromatiche van bene anche se uno ha uno spazio molto piccolo. Altrimenti una cosa molto divertente che io consiglio spesso di fare è anche piante di verdure, quindi pomodori o zucchine, basta un vaso abbastanza piccolo, basta in balcone un vaso da 15 litri e si riescono ad avere pomodori, perlomeno qua a Milano, fino a ottobre molto facilmente. Quindi è una cosa che poi alla gente piace tantissimo, riuscire a fare tutto il percorso, tutto il ciclo. Certo, questo da soddisfazione, perché è un'autoproduzione. Grazie Bruni, allora andiamo un momento in pubblicità, poi rientriamo, continuiamo e torniamo anche a San Marino, al Santuario Mariano e a Roseto. A tra poco. Eccoci, eccoci rientrati in studio, tra poco Simone vi mostrerà le foto che ci state mandando che sono bellissime, le rose per esempio in fiore sono uno spettacolo per gli occhi, ma lo sono ancora di più in un luogo di devozione e di preghiera, come il Santuario Mariano di San Marino, dove Antonella Ferrara è con il suo ospite fra Ignazio. e io torno da loro. Gabriella, un posto che riempie il cuore, ma in cui si imparano anche tante cose, ho raccolto una rosa e ho scoperto che la rosa è il giubileo. Ma a proposito di imparare delle cose, Fra Ignazio, tu ti occupi insieme agli altri frati della cura di questo roseto. Puoi insegnarci qualcosa? Magari come si fa una telea per esempio? Volentieri. Ecco, guarda già subito che lui ha le forbici pronte. Ecco, lui le tiene sempre con sé. Vediamo un po' come si fa. Il modo più facile per riprodurre una pianta di rose è appunto fare una telea e il momento opportuno è proprio questo, il momento dell'anno. Quindi siamo nel momento giusto. Nel momento giusto. Ho tagliato la rosa prendendo una parte del ramo apicale, del ramo madre, perché questa parte qui ha una capacità di mettere radici molto più alta rispetto a ogni altra parte della pianta. Quindi è già una garanzia di successo. Dopodiché prendiamo 20-25 centimetri e scegliamo una gemma. In corrispondenza della gemma dobbiamo fare un taglio in maniera obbligo, 45 gradi, ma dal lato opposto rispetto alla gemma, perché altrimenti se si deposita umidità, pioggia o quant'altro si formano dei funghi, delle muffe che porterebbero danno alla talea. Una talea di questo genere va messa per metà in terra e per metà lasciata come parte aerea. Quindi provare è la cosa più facile. È anche il momento giusto, quindi fatelo. Sicuramente. Ma io ho una domanda per te, Fra Ignazio. Ma quando hai imparato tutto questo? Io fin da piccolo ho avuto la grazia di avere due zii che mi hanno trasmesso tanto amore per la natura. Era una coppia che non avevano avuto figli, ma che hanno espresso la loro fecondità insegnandomi questa arte dell'essere giardiniere. Perché i giardinieri sono di due tipi. Un tipo che piantano per fare delle cose belle, altri per essere felici. Io faccio parte della seconda... E si vede dalla luce che hai negli occhi. Sì, ho sempre... A sei anni già innestavo le prime rose, quindi è una passione. Tu mi dicevi però che tu ti prendi cura non, come dire, delle piante in generale, ma perché nelle piante c'è qualcosa. Sì, esattamente. Io non amo tanto chiamarla natura. Amo chiamarla creato. Perché il creato mi rimanda un creatore. Io sono figlio di San Francesco. Quindi Francesco ha relazioni con le creature perché vengono da un unico padre che è il creatore. E questo è quello che, prendendomi cura delle piante, per me è un'attenzione a Dio e portare a compimento la mia fede. E attraverso anche il verde è stata una cosa importantissima nella vita mia, il creato, ma ha portato a scegliere anche Dio. Quindi io se sono frate, perché lui mi ha regalato il creato, Bonaventura le chiamava le vestigia dei. Cioè quel luogo che attraverso il quale io, abitandoci, guardando, sento come Dio mi ama, come Dio ha tenerezza nei miei confronti. Quindi questa è una storia bellissima. Io direi, Gabriele, in chiusura, vi dico che questo posto, mi ha raccontato Fregnazio, a maggio fiorisce un tripudio di colori e la gente viene qui e prega. Noi cercheremo di tornarci quando sarà tutto qui. A sentire i profumi, soprattutto. E a vedere i colori. Perché sono rose, tutte rose inglesi, profumatissime. Gli inglesi non interessa la forma del bocciolo e neanche il colore, ma il numero di petali e la profumazione. Noi cercheremo di esserci. Gabriella. E con Tonella e Fregnazzo ci proveremo anche noi, eh, a venire a maggio. Grazie davvero. E adesso vado da Simone. Andiamo dai nostri telespettatori, direi, Gabriella. Voglio partire da Paola, che dice, le piante sono straordinarie. E sì, ho il pollice di verde in tutto. Nel mio appartamento ci sono 35 vasi, Gabriella. E non è tutto. Questa passione me l'ha trasmessa mia madre. Però, devo dirlo, lei era molto più brava di me. E poi Franco, caro Simone, perché qui arrivano anche tanti consigli, eh. Ok. Caro Simone, anche io sono negato. Ma, se posso darti un consiglio, se vuoi iniziare, prova con le piante grasse o con le piante aromatiche. E poi Lillo, d'accordo con Giuseppina Paterniti, curare le piante è rilassante e non solo, dà anche molte soddisfazioni. E poi abbiamo Lusi, la cura delle piante mi ha aiutato in un periodo molto delicato della mia vita. È un'attività rigenerante. E poi hanno risposto anche a una mia curiosità, devo dire. Come ci si organizza per la cura delle piante? Ecco, Raffaella dice, la pianta è come un figlio e deve essere curata. Insomma, è un bel impegno. Io, quando vado in ferie, la lascio alla mia vicina di casa. Questa, non so se sia proprio la soluzione definitiva, però può essere certamente un'attività. È un'ottima soluzione. Grazie, Simone, grazie di queste condivisioni. Non so se posso dirlo, Giuseppina, però sento il bisogno di farlo. A telecamere spente, tu mi hai descritto la meraviglia del giardino siciliano. Hai detto una cosa molto bella che mi ha colpito. Hai detto, io sento il mio richiamo della foresta. Lì in Sicilia, a quel giardino, devo tornare. Perché immagino ti capiti che magari in una giornata un telespettatore o una telespettatrice l'ha detto, frenetica, difficile, magari piena di difficoltà, di pensieri, essere lì a riempirti lo sguardo e anche a prenderti cura di quelle piante aiuta. Sì, ma poi guarda, i giardini siciliani sono pieni in genere, almeno come il nostro, di piante di agrumi, quindi sono pieni di mandarini, di arance, di limoni. Poi, insomma, le altre piante si preparano alla stagione. No, è bello vedere come vive un giardino le varie stagioni, quello è bellissimo. Perché, diciamo, in ogni stagione c'è qualcosa che si sta preparando, qualcosa in fiore, qualcosa che dà frutto. Devo dire che è fantastico. Comunque per me quello è il luogo della mia famiglia, insomma. E poi c'è un'altra suggestione che ci è arrivata sempre da uno dei nostri telespettatori, quando ha detto affido la pianta a una vicina di casa. Io prima ti ho chiesto, insomma, tu da giornalista, direttrice di giornale, corrispondente, ma come facevi a prenderti cura delle piante in terrazza a Roma? Sì, in terrazza ho messo su un condominio. No, guarda, in terrazza ho messo l'irrigazione per le piante, quelle ovviamente interne, naturalmente sì, approfitto del condominio e quindi lascio tutte le piante giù, un po' come noi a turno, e diciamo, speriamo, incrociamo le dita che resistano, ma hanno resistito. E comunque c'è una cura vicendevole, questo è molto bello. Bruni, è il momento dei consigli proprio pratici e concreti. Intanto è ancora inverno, ce ne accorgiamo poco, ma è ancora inverno, ma le piante le dobbiamo, per esempio, sui terrazzi proteggere? Usiamo questi tessuti non tessuti? Come lo facciamo? Dunque, ormai, purtroppo, per il global warming, anche qui a Milano, crescono gli agrumi in terrazzo senza bisogno di protezione, quindi dipende un po' dalle piante che abbiamo, però generalmente comunque le piante che noi emettiamo, per esempio, non hanno bisogno di protezioni particolari. Hanno bisogno, anzi, di essere molto spesso, soprattutto le sempreverdi, che è una cosa un po' controintuitiva in inverno, di essere bagnate, perché possono invece soffrire i colpi di vento e siccità. Essendo comunque gli inverni tendenzialmente abbastanza secchi e sicuramente più caldi, bisogna stare un po' attenti, perché ho visto. Ci avviciniamo però alla primavera e alla fioritura. Che cosa dobbiamo fare al momento di potare? Come lo facciamo? Per esempio, adesso è il momento perfetto per potare le rose, perché iniziano a inturgidirsi le loro gemme e quindi è il momento di fare una bella potatura. Ci sono comunque, sì, adesso è un ottimo momento per fare tutti i lavori, togliere i rami morti, ordinare le piante che vogliamo, iniziare a sognare per la primavera, che poi i terrazzi e i giardini sono il loro bello e che sono luoghi sempre in divenire, al contrario dell'interno della casa, che forse è un po' più statico. Il giardino e il terrazzo sono un posto vivo, meraviglioso, quindi è stupendo sognare e cambiare. A proposito di terrazzo, luogo vivo, meraviglioso, Giuseppina, dalla Sicilia ci spostiamo alla capitale e a quel tuo terrazzo. Ci descrivi che cosa ci troviamo, che cosa possiamo vedere su quel terrazzo? E poi ci dici anche se tra tutte quelle piante e quei fiori ce n'è una che ami particolarmente. No, guarda, non è un grandissimo terrazzo, saranno 20 metri quadri, comunque ho una trentina di vasi, ho due limoni, delle bougainville, dei gelsomini, che forse è la pianta che preferisco, probabilmente, perché è così profumata, mi ricorda anche un po' la Sicilia. E poi ho perfino degli alberi da frutto, una è nata da sola, che è un albero di prugne, un pesco nano che me l'hanno regalato, e fanno regolarmente i frutti, e poi ho anche un avocado, che una delle mie sorelle, Fabio, l'ha, diciamo, preparato, una volta che è dal frutto stesso, ma ormai è altissimo, cioè devo potarlo radicalmente, e ha fatto tre frutti. Splendido, non abbiamo bisogno di questo giardino, l'abbiamo immaginato, così colorato e così pieno di piante. Siamo in conclusione, Bruni. A proposito di terreno, insomma di terra, aveva cominciato a dire come inumidirla in inverno, e come ci regoliamo col concime, e poi avevamo tutti, un po' tutti in redazione, la curiosità di sapere se è una leggenda metropolitana che i fondi di caffè aiutano, oppure no? Allora, sì, aiutano, come tutte sostanze organiche, quando si decompongono rilasciano micro e macro nutrienti, quindi la famosa buccia di banana contiene molto potassio, come lo vediamo anche nelle partite di tennis, ci sono i tennisti sempre che mangiano le banane per evitare i crampi, anche le nostre piantine si giovano di tutte queste concime che possiamo produrre in casa, è anche una cosa poi tra l'altro a chilometro zero, quindi anche molto ecosostenibile, quindi no, io caldeggio molto e lo faccio anch'io, io conservo sempre il caffè della macchinetta quando la mattina lo bevo, lo tengo, poi lo metto nelle piante. Grazie, ringrazio Pietro Bruni, ringrazio Giuseppina Paterniti, tutti voi per le vostre condivisioni, vi ricordo che se volete, c'è qualche passaggio che avete perso, soprattutto per la cura delle piante, e volete rivedere la puntata, c'è la app Play 2000 che potete scaricare da tutti gli store, sulle Smart TV, sui vostri telefoni, sui cellulari, sui tablet, e come sapete noi siamo qui dal lunedì al mercoledì e vi aspettiamo in studio alle 15.15. Grazie. Grazie.